Tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Gesù Bambino di Praga a Pagani, da 12 a 14 settembre. Diversi eventi che coinvolgeranno i fedeli presso la Chiesa di Santa Maria della Purità, oggi anche Santuario del Gesù Bambino di Praga. Venerdì 12, sabato 13, domenica 14, tre giorni di festa in onore del Santo Bambino di Praga. Il tutto avrà inizio venerdì alle ore 19 con l'offerta dell'olio per la lampada perenne da parte del Sindaco di Pagani, il dottore Salvatore Bottone. Il rito sarà ufficiato dal nostro vescovo Monsignor Giuseppe Giudice. Sabato invece la Santa Messa alle ore 18, presieduta dal Rettore del Santuario, il sacerdote Don Gerardo Coppola. Subito dopo la processione, quest'anno per la prima volta nelle strade di Via Roma, Via Zito, Via Massimo d'Azeglio, quindi il quartiere Palazzine. Domenica invece alle ore 11 ci sarà la Santa Messa per le mamme e i bambini e quindi la consacrazione a Gesù Bambino. Alle ore 18 e 30 il corteo partirà dal Santuario di Gesù Bambino di Praga e arriverà alla Casa Comunale, dove ci sarà il Sindaco, a consegnare a nome della città di Pagani le chiavi nelle mani di Gesù Bambino. Lunedì 15 settembre ci sarà la giornata del ringraziamento con la Santa Messa per i benefattori alle ore 19 e 30, presieduta dal vicario Don Enzo Di Nardi. Per quanto riguarda il programma civile, sabato e domenica sera ci sarà la sagra Sapori Monastici, organizzata dai giovani della Pia Unione Ammalati Cristo Salvezza. Sabato sera avremo la presenza di Luca Sepe ad animare la serata e domenica invece una serata musicale con l'Aparanza dell'Agro. Domenica mattina invece per il corso Ettore Padovano ci sarà l'animazione per i bambini curata appunto dall'animazione Pongo e Peggy, animazione e spettacoli. Grazie. 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 Grazie.